Il mezzo meccanico, la chiusura delle ali e off-limits OM attaccato a centropista da Odessa Desi che come era nelle previsioni sfila al comando abbastanza agevolmente senza grossa spesa l'allievo di Minucci con off-limits che parcheggia in seconda posizione a precedere Panther OR. Primo riferimento cronometrico in 14.3 per Odessa Desi che l'ha presa veramente in velocità, off-limits in seconda a precedere Panther OR e poi a sua volta il numero 3 di Isoverde Ligure che ha di fuori Orme de Pe. 29 e qualche spicciolo abbondanti, anzi il passaggio ai 400 con concorrenti che ora con Giampolo Minucci che è ripreso in mano e vede avvicinarsi all'esterno Orme de Pe che lo va ad accompagnare. 44 e mezzo i 600 iniziali con Orme de Pe che ora si è rimasto all'esterno perché Odessa Desi non ammette interferenze. Ora il passaggio agli 800 in un velocissimo 59 e 9 con 14.5 di frazione. Si vanno a formare delle pariglie, passaggio davanti alle tribune, comanda sempre Odessa Desi in seconda posizione lungo Ibirilli e sempre off-limits OM in pariglia con Orme de Pe. Ora c'è l'aggiramento in terza ruota di Nitro Fetz che si trascina a sua volta Love the Children con cavalli che vanno sulla penultima piegata. 15 e 7 di frazione da parte del leader con cavalli sul penultimo rettilineo, comanda sempre il favorito di Odessa Desi con due di margine dal resto della compagnia. 14 e 7 di frazione, ora si avvicina Nitro Fetz che si trascina a sua volta a Love the Children con lungo Ibirilli, sempre off-limits OM, attacco della piegata finale. Il passaggio al miglio da parte dei leader in due minuti e qualche spicciolo con in seconda posizione Nitro Fetz che ha scavalcato off-limits OM. Ora c'è la terza ruota all'esterno, l'attacco di Love the Children che va deciso all'attacco di Odessa Desi, lo coglie in crisi, lo sopravanza come e quando vuole. Love the Children, Davide Cangiano, passerella in addirittura di arrivo, passerella per Love the Children. In grande spolvero che va a vincere su Pantero R e su Nitro Fetz terminati nell'ordine. Grande spolvero per Love the Children, Davide Cangiano pennellato, ha pennellato l'allievo della scuderia COS, Emilio Esposito ha il training per questo Love U di nove anni, in nuova giovinezza per Love the Children. 2.36.8 il tempo totale, 1.14.7 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 32.4.